Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, in via Pisanelli, numero civico 20, quindi nel cuore del borgo del capoluogo Ionico e vogliamo rappresentarvi per l'ennesima volta una situazione di assoluta faticenza e incredibile degrado. Alle mie spalle vi è uno stabile che dal lontano 2008 giace in questo stato di abbandono. L'inizio è di proprietà privata, l'inizio dei lavori era previsto per il maggio 2008, la conclusione e la fine dei lavori per dicembre 2008. Siamo a dicembre 2017, tra un po' entreremo nel 2018 e questo stabile, in assoluto stato di faticenza, festeggerà i 10 anni, o meglio, i 10 anni dal promesso, dal sognato inizio lavori. L'amministrazione comunale dovrebbe intervenire con una ordinanza in danno e quindi anticipare le somme per murare lo stabile e quindi il Comune dovrebbe in buona sostanza, come detto, anticipare le somme e poi rivalersi sul proprietario o sui proprietari. Perché ci sono delle ragioni di igiene, ci sono delle ragioni di sicurezza che di fatto impongono all'ente civico di intervenire senza sé e senza ma. È una situazione, ripeto, che si è incancrenita da quasi 10 anni, è certamente un pugno in faccia rispetto al decoro del borgo, ai tanti tentativi che si stanno facendo, anche a parole soprattutto, per riqualificare il borgo. E quindi è anche assurdo che le attività commerciali, insistenti appunto nelle vicinanze, debbano ricevere di fatto un danno in termini di immagine, in termini di qualità, proprio da questa situazione di sfascio, oserei dire, completo, una faticenza vergognosa. E allora forse la cosa sarà sfuggita all'amministrazione, alle amministrazioni, va bene, vediamo. L'amministrazione Melucci si è insediata da circa sei mesi, sarebbe il caso che si intervenisse. Perché come vedete qui c'è un varco, c'è una finestra aperta, c'è un tratto della recinzione aperta e quindi chiunque, chi che sia, può entrare, può diventare così sede, luogo di mora di malintenzionati e quant'altro. Da non dimenticare il fatto che le impalcature di fatto ostruiscono l'attraversamento, la possibilità di percorrere il marciapiede. Quindi pensate, tanti anziani devono scendere dal marciapiede, bypassarlo e di fatto imbattersi nelle macchine che transitano. Perché? Perché qui c'è il catafalco che giace abbandonato da dieci anni. Bene, da via Pisanelli numero 20 è tutto. Ascoltiamo, mentre stiamo registrando, le lagnanze, le laventele di chi abita nella zona. Questo è il centro di Taranto, non è assolutamente una periferia. Signor Sindaco, signor Assessore ai lavori pubblici, chiediamo un vostro intervento. Quanto prima, dallo sportello del cittadino e da Luigi Abbate è tutto. Alla prossima vostra segnalazione, siamo a disposizione della collettività.